Essere la mattina è la vigilia di Natale qui con una dimensione che è quella di un accordo che ha portato oggi a una nuova proprietà FFFF, ovvero la fabbrica per il futuro a Firenze, le F indicano questo, è davvero il pensare a una fase che può farci uscire dal dramma che abbiamo vissuto nella prospettiva di una reindustrializzazione che ci è stato riferito da Francesco Borgomeo essere qualcosa di assolutamente concreto. Un Natale con una speranza concreta per la GKN, questo ha significato la presenza in fabbrica il 24 di dicembre del presidente della regione Eugenio Gianni insieme al sindaco della città metropolitana Dario Nardelle e al sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi. La vicinanza ai lavoratori impegnati da mesi in una delle più dolorose vicende che riguardano il lavoro sul nostro territorio è un significativo incontro con Francesco Borgomeo, l'imprenditore advisor che ha acquistato la GKN cancellando il rischio di licenziamento dei lavoratori e la messa in liquidazione dell'azienda. Noi come istituzioni siamo stati vicini ai lavoratori nel modo assoluto, più diretto e più costante. Il fatto di essere oggi qui senza che ancora sia partita una lettera di licenziamento e abbia un soggetto che veramente appare credibile per poter gestire questa delicata fase di una nuova industrializzazione in questo stabilimento è una cosa importante.